Per i miei casi che non riusciano a prendere i bambini, facciamo anche una teglia, facciamo una teglia al mano, io faccio, metto sotto un teglio di calda, un po' lo, e... Io faccio, metto sotto un po' la cosa. Questo è un po' la cosa, e la mia buona, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.